ciao ragazze bentornate tutte sul mio canale allora oggi nuovo video volevo proporvi dato che in un video precedente molti di voi mi hanno risposto alla questione ghirigori che appunto non c'è siamo in molto a non essere pratiche volevo praticamente mostrarvi una piccola tecnica o comunque ho provato a effettuare dei piccoli ghirigori anche io e piano piano ho capito un pochino come effettuarli ecco da qua dire che sono diventata esperta ce ne passa ragazze però piano piano come dico sempre con la pazienza con la voglia di fare le cose vengono allora io innanzitutto vi dico la verità sto facendo moltissime prove a livello di disegno perché non sono bravissima a disegnare quindi qui ho fatto dei piccoli scarabocchi questo è il libro delle fiabe che leggo la sera i miei bambini appena loro si addormentano io mi metto lì a disegnare questo perché perché mi aiuta con la manualità quindi mi aiuta molto a imparare un po di più a impratichirmi passatemi il termine ad essere più pratica appunto con i pennellini e con questi famosi ghirigori anche se adesso poi hanno creato i water decoll hanno creato i foil già belli che pronti però è sempre molto bello secondo me riuscire almeno qualcosa a creare da soli un po come quelle che fanno la francia con la lunettina è molto più bello far vedere comunque che lo sappiamo fare mando le ciance allora io ho applicato l'esp 93 stefani che è un rosino fatto una passata a smalto e adesso utilizzo il mio poso black di passone unghie prendo utilizzo questo pennellino molto molto fine e corto che mi aiuta proprio a fare le linee corte e quindi anche i vari ghirigori e inizio ragazze per il primo che voglio mostrarvi andrò ad effettuare tipo una s allora io vorrei che voi mi vediate bene vediamo di posizionarlo al meglio ok che mi vedeste bene sto anche perdendo i colpi sulla sulla parola allora una iniziamo con una s quindi posizioniamo il nostro pennello e andiamo piano piano e non è importante se al momento non è pieno il colore iniziamo a stenda tracciare diciamo la nostra linea in questo modo ci sono tantissimi modi per fare ghirigori ci sono tantissimi motivi ecco mettiamola così di disegno quindi poi ognuno sceglie quello che più le piace per questo che io piano piano sto facendo delle prove a livello punto di di disegno allora la cosa che io vi posso il consiglio che vi mi sento di darvi è di non utilizzare troppo prodotto di non spingere troppo il pennello quindi di cercare di accarezzare la tip il più possibile o in caso di cliente lunghetta e piuttosto metteteci qualche minuto in più a farlo ma fatelo in modo preciso ok allora una volta che abbiamo effettuato diciamo la nostra linea base di partenza così da qui possiamo andare a creare tutti gli altri nostri ghirigorini anche questo molto a nostro piacimento io intanto preso vedete un po più di prodotto in punta cioè vedere cosa dobbiamo fare vado innanzitutto a spessire un po questa parte quindi vado a scaricare e quindi a schiacciare il prodotto in punta e poi lascio vedete che si è formato proprio il pallino che ci serve per fare il famoso ghirigori allora mi sposto un pochino perché sono poi io mi muovo la stessa cosa faccio esattamente da questa parte quindi se prima andavamo solamente a accarezzare la tip adesso io schiaccio con la mia punta e tiro vedete dopodiché io fermo 10 secondi in lampada solamente perché il colore sotto ha dispersione Stefani quindi rischierei di far allargare troppo il prodotto e la stessa identica cosa ragazze la facciamo per tutti gli altri cerchietti pallini che vogliamo fare quindi a questo punto vado nuovamente a pucciare il pennello vado nuovamente a premere con la punta e mi avvicino leggermente in modo molto delicato possiamo farli più grandi più piccini vedete continuo a bloccare il colore nel caso in cui vogliate fare tutto insieme senza appunto perdere tempo dovrete andare ad applicare o un colore che non abbia dispersione quindi tutti gli F di passone e unghie oppure andate a mettere un sigillante senza dispersione appunto vado a girare la mia tip e a effettuare la stessa cosa anche da questa parte quindi anche qui vado ad appoggiare il pennello scaricando il prodotto e tiro in questo caso si formerà proprio il nostro ciuffetto schiaccio e tiro vedete ne possiamo fare quanti ne vogliamo come li vogliamo ovviamente facciamo la stessa cosa anche sopra io in questo caso vado ad invertire il senso schiaccio e tiro schiaccio prendete un bel po' di prodotto e tiro vedete ripeto poi dovete gestirvi un pochettino voi l'andamento dei riccioli come più vi piace possiamo andare ad abbinare tranquilla a mettere tranquillamente degli svaroschini io in questo caso in questo momento non ce l'ho perché purtroppo sono in casa in questo momento e possiamo anche andare a effettuare una C sempre schiacciando in questo modo più i ricciolini sono casuali e più secondo me è bello il lavoro io in questo caso vi sto facendo vedere ragazze un Ghirigori gigantesco quindi che prende tutta l'unghia voi ovviamente potete scegliere la grandezza che più vi piace e una volta che siete soddisfatte di quello che avete fatto potete andare a sigillare vedete io non avrei mai pensato di poter fare un lavoro del genere ma è praticamente tutto un lavoro intanto dovete avere il pennellino giusto io vi consiglio un pennello molto molto piccolo che serve proprio per fare le linee corte diciamo perché vedete non ha tanta possibilità di andare a fare le linee lunghe è corto e finissimo dopodiché appunto riempite la punta di prodotto schiacciate e lasciate questo secondo me è il metodo migliore per questi Ghirigori questo qui è il lavoro che ho fatto oggi ripeto possiamo andare ad applicare qui degli svaroschini per impreziosire potete fare quello che più vi piace potete fare un Ghirigori che parte solamente da questa parte e lo lavorate tutto potete fare quello che più vi piace a vostra scelta quindi niente io spero che questo video vi sia stato utile anche se breve di avervi detto più o meno come che metodo ho trovato io per appunto fare questi ricciolini poi per quanto riguarda la composizione del Ghirigori sta molto a nostra fantasia se ne trovano tanti in internet dalla quale possiamo prendere spunto però diciamo che io volevo farvi vedere come realizzarlo dato che appunto nei video precedenti molte ragazze mi hanno detto che anche loro hanno provato ma non hanno ottenuto i risultati sperati quindi niente ho voluto farvi questo video per nel mio piccolo ripeto non sono una grande master di queste cose ma nel mio piccolo ho voluto farvi vedere come potevate realizzare anche voi dei Ghirigori semplici e veloci vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritte ragazze vi invito a lasciarmi un pollicione se il video vi è piaciuto se avete necessità di qualche altro video che vi interessa lasciatemi giù nei commenti così provvedo se riesco se posso a farvi il video se avete bisogno di qualsiasi domanda di richiesta o comunque farmi qualsiasi domanda lasciatemi pure sempre giù nei commenti volevo farvi vedere queste due cosine che ho fatto per Pasqua io non sono una grandissima decoratrice appunto pittrice o comunque non mi piace molto farla nell'art ma mia figlia ha insistito e quindi fatemi sapere se vi interessa una di queste nell'art che sono molto semplici in realtà anche molto banali però le ho trovate carine per Pasqua o eventualmente qualcos'altro niente io vi mando un grande bacio vado a godermi un pochettino di sole che è uscito e vi auguro una buonissima giornata un bacione a tutte ciao ciao